Sarà il nuovo Vescovo di Palermo, Corrado Lorefice, a presiedere il solenne pontificale della prossima festa di Sant'Agata. La notizia è stata data durante la mattinata di oggi, nel Salone dell'Arcivescovato di Catania, dove è stato presentato il programma ufficiale delle celebrazioni agatine. Durante la conferenza stampa è stato confermato il cambiamento del primo riferimento del Comitato Organizzativo. Non sarà più il Cavaliere Luigi Main a presiedere tale comitato. Al suo posto ci sarà Francesco Marano, fedelissimo del sindaco Enzo Bianco. Maina rimarrà comunque presidente onorario del Comitato, che da quest'anno avrà personalità giuridica. Immutato invece è il Capovara. Per il secondo anno consecutivo, a guidare le manovre del Fercolo, ci sarà Claudio Consoli, che si è già dimostrato capace di gestire al meglio ogni momento della festa. Già tra un mese tra le vie cittadine si potranno ammirare le Candelore, grossi cerivotivi portati a spalla da corporazioni devote. Pian piano si entrerà nel vivo della festa, che culminerà il 3 febbraio. Intanto, dopo l'ordinanza per i botti di Capodanno, molti si chiedono già come si comporterà l'amministrazione comunale in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Agata. Proprio i fuochi d'artificio sono una delle principali attrazioni che ogni anno portano a Catania migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.